I carabinieri della stazione di Siracusa principale hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni del luogo in esecuzione di un provvedimento emesso dall'ufficio di sorveglianza di Messina. Il 48enne, condannato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione abusiva di munizionamento, reati commessi nel 2015, aveva ottenuto la misura alternativa dell'affidamento terapeutico presso una comunità nel messinese ma si è allontanato arbitrariamente dalla struttura, abbandonando così il progetto. Pertanto l'ufficio di sorveglianza di Messina ha emesso un provvedimento di sospensione del beneficio. I militari dell'arma hanno rintracciato il 48enne nel centro abitato e dopo le formalità di rito lo hanno trasferito presso il carcere Cavadonna di Siracusa.